Studio9tv.com, auguri di buone feste! Natale è la festa delle feste, è la festa di Gesù bambino e di tutti i bambini. Ogni scuola così si prodiga per allestire spettacoli che siano occasione di gioia e di riflessione per tutti e per le famiglie in particolare. L'istituto comprensivo Bozzini-Fasani ha messo insieme una serie di appuntamenti che ha visto protagonisti i bambini di tutte le classi. Gli insegnanti della primaria hanno scelto di unire più classi insieme, anche dalla prima alla quinta, per offrire alle famiglie un ventaglio di proposte, di emozioni, di messaggi. Il clou è stato raggiunto martedì 22 dicembre con le esibizioni dell'orchestra giovanile Bozzini-Fasani, al mattino dinanzi agli alunni della primaria, dell'infanzia e delle medie, e poi nel pomeriggio dinanzi alle famiglie, con la partecipazione anche di giovanissimi solisti. Gli insegnanti di giovanile Bozzini-Fasani Gli insegnanti di giovanile Bozzini-Fasani Gli insegnanti di giovanile Bozzini-Fasani Il susseguirsi di pezzi eseguiti con i flauti e poi con tutti gli strumenti ha alietato il pubblico presente. Da evidenziare il brano composto con le parole scritte dagli stessi alunni è intitolato Natale Rap. La ciliegina sulla torta è stata poi la canzone We Are The World con l'esibizione associata a quella dell'orchestra del coro Bozzini Fasani. Composto da insegnanti, genitori, personale ATA e dallo stesso dirigente professor Mario Tibelli e diretto da professor Giuseppe Marzano. Grazie. 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 Il suddetto coro ha poi continuato a cantare, oltre al famosissimo brano nel blu, dipinto di blu, dell'indimenticabile Domenico Modugno. E incominciava a volare nel cielo infinito. Volare, volare, cantare, volare. Il coro ha proposto i due brani composti dal professor Barzano, La Magia dei nostri suoni e Liberi, con cui si è concluso il concerto. La Magia dei nostri accorti ci permette la funzione dell'indimigualità. Liberi, che sei forti dentro, Liberi, che negli occhi con i piedi o no, di guardare con il cuore, tutto a me, che all'amore ha. Liberi, che negli occhi con i piedi o no, di guardare con i piedi o no, di guardare con i piedi o no, di guardare con i piedi o no. E alla genuinità dei bambini. Andiamo allora incontro al bambino che nasce, per incontrare l'amore vero e la gioia che cambia la vita. E a tutti voi... A tutti voi... E a tutti voi... E a tutti voi...